Piero Fassino e poi Michele Emiliano. La parola che io ho scelto è una parola per la quale mi sono iscritto molti anni fa ad un partito e ho militato nella sinistra. E' non avere paura. Io voglio una sinistra che non abbia paura. Voglio una sinistra che non abbia paura della globalizzazione, ma si ponga il problema di dargli un verso, di dargli una direzione, di dargli dei valori. Voglio una sinistra che non abbia paura dell'Europa, perché l'Europa è il luogo del nostro futuro e sempre di più sarà il luogo della nostra vita. Voglio una sinistra che non abbia paura di un mercato del lavoro che non è più quello di un tempo. Il problema non è dire no alla flessibilità, ma come ci mettiamo dentro i diritti e la flessibilità è insieme, la coniughiamo con i diritti. Voglio una sinistra che non abbia paura della natura, perché siamo a Firenze. Brunelleschi e Michelangelo ci hanno insegnato che il rapporto con la natura non è di contemplazione, ma è di rendere migliore il mondo che abbiamo trovato. Voglio una sinistra che non abbia paura di aprirsi, che non abbia paura di parlare con quelli che ancora non ci hanno votato, perché non si vince tenendo solo quelli che hai. Voglio una sinistra che non abbia paura delle diversità, perché le diversità sono la ricchezza del mondo e quanto più siamo capaci di misurarci con ciò che è diverso da noi, tanto più costruiremo un mondo migliore. Voglio una sinistra che non abbia paura di aprirsi, non abbia paura di passare la mano, perché la funzione di una classe dirigente è quella di costruire le condizioni perché chi viene dopo di lui sia in grado di fare meglio di lui. Voglio una sinistra che non abbia paura di vincere e dica noi vogliamo vincere ed è per questo che credo che siamo tutti qui. Grazie. Grazie.